Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Decreto di Ceriscioli Chi si è spostato nelle Marche dalle zone arancioni dopo il 7 marzo dovrà comunicarlo alle autorità sanitarie locale 60 ristoratori fanesi hanno abbassato la saracinesca con lo slogan La salute prima di tutto, ma ora chiedono sostegno alle istituzioni I consiglieri comunali under 35 rivolgono un appello ai giovani Rispettate le regole Anche il circuito ciclistico Marconi chiude fino al 3 aprile I trasgressori saranno sanzionati dalle forze del loro Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale Dunque altri 5 decessi correlati al coronavirus Sono stati registrati oggi dal Gores, il gruppo operativo regionale emergenza sanitaria Facendo salire così al bilancio a 18 decessi dall'inizio dell'emergenza Vediamo allora tutti i particolari in questo servizio curato da Lino Balestre Un'altra giornata nera sul fronte coronavirus I decessi salgono a 18 Il Gores ha oggi ricevuto comunicazione di tre uomini deceduti nell'ospedale di Senigallia Ma provenienti dalla provincia di Pesero 67, 84 e 85 anni E di una donna di 83 anni Deceduta a fermo Proveniente dalla provincia di Macerata E di un uomo di 81 anni Deceduto nell'ospedale di San Benedetto Proveniente però dalla provincia di Ancona Da dove era stato trasferito Una curva della crescita dei contagi che è esponenziale Mostra purtroppo lo stesso preoccupante andamento di quello che si è avuto in Lombardia I positivi sono arrivati a 394 Più 71 rispetto a ieri 296 solo a Pesero E 81 ad Ancona Aumentano di conseguenza anche i ricoverati Quelli in terapia intensiva sono 54 Con 7 nuovi ricoveri nella giornata di oggi Mentre quelli in altri reparti sono 156 20 più di ieri 76 invece sono nelle strutture di Marche Nord E 17 in quelle di Ancona Anche Iesi e Urbino registrano un'impennata di ricoveri Non però in reparti intensivi Arrivando a una decina ciascuno Rimane preoccupante però anche il numero degli operatori sanitari Messi in quarantena che non accenna a diminuire Oggi sono 2,98 24 più di ieri In totale le persone in isolamento volontario domiciliare nella regione Marche Sono 1744 Di cui 918 Solo nella provincia di Pesero e Urbino Parcheggi vuoti e controlli di polizia Anche a Fano Dopo il nuovo decreto del governo Questa mattina abbiamo fatto un giro per vedere la situazione Vediamo il servizio di Francesco Salvago Non ci sarà più una zona rossa Ci sarà l'Italia Un'Italia zona protetta Con queste parole il Premier Giuseppe Conte Ha annunciato ieri le misure più stringenti Che tutti i cittadini devono rispettare da nord a sud Per contrastare l'avanzata del coronavirus Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini Ha detto Conte Ma non abbiamo più tempo C'è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute Quindi dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa Per il bene dell'Italia e lo dobbiamo fare subito Il provvedimento che il Premier ha firmato è entrato in vigore da oggi Il decreto chiamato Io resto a casa Prevede tra l'altro un divieto di assembramento in luoghi al chiuso e all'aperto In tutta Italia Spostamenti possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute Lo stop delle scuole fino al 3 aprile E quello di tutte le manifestazioni sportive Le strade a Fano stamane erano semideserte Parcheggi vuoti Una città ferma le nuove disposizioni emanate dal decreto Per fronteggiare l'emergenza Pattuglie di polizia diffuse nel territorio Per effettuare i controlli sugli spostamenti Secondo il decreto sarà possibile l'autocertificazione Per la giustificazione degli spostamenti delle persone fisiche Che può avvenire soltanto per esigenze lavorative Situazioni di necessità, motivi di salute Oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza Al contrario c'è l'obbligo di restare nella propria abitazione Resta comunque il divieto assoluto a spostarsi Senza eccezioni per le persone sottoposte a quarantena Oppositive al coronavirus Il modulo, come già pubblicato dal Ministero dell'Interno Deve essere compilato in tutte le sue parti E firmato dal dichiarante E consegnato all'operatore di polizia Detto al controllo Non è all'ordine del giorno Una limitazione dei trasporti pubblici Per garantire la continuità del sistema produttivo E consentire alle persone di andare a lavorare Le sanzioni per coloro che non rispetta il decreto Può essere punito con l'arresto fino a tre mesi E l'ammenda fino a 206 euro Secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale Sull'inosservanza di un provvedimento delle autorità Ma pene più gravi possono essere la fuga della quarantena per i positivi Che possono configurare il reato di delitto colposo Contro la salute pubblica Il comune di Fano ha istituito inoltre anche un numero verde 800-094-141 Per coloro che vogliono denunciare situazioni pericolose E sempre sul fronte dei controlli La Regione Marche ha emesso un'ordinanza Per chi viene dalle zone arancioni Magari nelle residenze estive Che impone l'isolamento domiciliare volontario Comunicazione ad un medico dell'ingresso nel territorio regionale delle Marche E isolamento fiduciario per 14 giorni Per chi viene dalle ex zone arancioni Cioè Regione Lombardia E 14 province italiane di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche Tra cui appunto anche la provincia di Pesero Urbino E quanto prevede l'ordinanza numero 4 del Presidente della Regione Marche Pubblicata oggi e illustrata nel corso della cabina di regia Che si è tenuta ieri pomeriggio a Palazzo Raffaello L'atto riguarda le persone provenienti dalle zone di contagio previste Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo scorso E che hanno fatto ingresso nella Regione Marche A partire dal 7 marzo scorso Escluse quelle che però hanno effettuato spostamenti Motivati da comprovate esigenze lavorative O situazioni di necessità o per motivi di salute Queste persone devono comunicare il loro ingresso al medico di medicina generale O all'operatore di sanità pubblica del servizio territoriale competente E poi osservare una misura della permanenza domiciliare Con isolamento fiduciario per 14 giorni Un provvedimento si apprende dalle fonti della Regione Adottato anche per monitorare l'arrivo di persone Provenienti dalle ex zone arancioni E che hanno seconde case in particolare Lungo la zona costiera delle Marche Alcuni sindaci di località turistiche Hanno avviato dei controlli delle targhe E distribuito materiale informativo Inoltre per evitare in maniera più efficace Il rischio di contagio per la popolazione anziana Per le persone disabili E per quelle con problemi di salute mentale È obbligatoria, la Regione ha disposto A partire dall'11 marzo E fino al 3 aprile La sospensione delle attività Dei centri semiresidenziali e diurni Su tutto il territorio regionale Incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità E servizi di prossimità 60 ristoratori di Fano hanno deciso Di abbassare le saracinesche Dei loro ristoranti Fino al prossimo 3 aprile Con lo slogan La salute prima di tutto Al grido di La salute prima di tutto Una sessantina di esercenti di Fano Con la licenza di cibo e bevante Hanno deciso di sospendere La loro attività fino al 3 aprile Giorno in cui terminerà Forse questo momento di lacrime e sangue Con gli incassi Crollati in media dell'80% Il settore della ristorazione È quello che sta pagando Un prezzo salatissimo Le ricadute Anche dal punto di vista occupazionale Sarebbero pesantissime Se le aziende salterebbero Ogni esercizio vanta una media Tra sala e cucina Di almeno una decina di maestranze E quindi i conti sono facili da fare Questa mattina I ristoratori aderenti a questa iniziativa Si sono dati appuntamento Nella residenza municipale Per far sentire la loro voce All'amministrazione comunale Che li ha ricevuti Nella sala della Concordia Per ascoltare le loro istanze La preoccupazione maggiore per loro È che in vista del documento Di programmazione economica Che dovrà essere emanato Già nella giornata di domani Che contempla gli aiuti del governo Per fronteggiare l'emergenza coronavirus Venga inserita la voce ristorazione Tra le categorie beneficiari E dato che nella bozza in circolazione Si legge solo un generico Comparto del turismo Che non contempla però appunto La ristorazione La prima richiesta riguarda L'amministrazione comunale In cui chiediamo la sospensione Fino alla dichiarazione di chiusura Del famoso coronavirus 120 giorni dopo La deroga di tutti i pagamenti Dell'acqua Gas Tasse comunali E quant'altro Questa è la prima cosa Abbiamo chiesto al sindaco Poi anche di aiutarci Insieme con le banche Ad avere qualche soldo Da poter in qualche maniera Far fronte a questa situazione Ed emergenza Chiaramente non avendo più Una rettività Abbiamo chiaramente dei problemi Che anche con i nostri dipendenti Dobbiamo in qualche modo Dover supplire Non è che possiamo Non dare lo stipendio Ai nostri dipendenti Noi abbiamo tanta gente in carico Facendo un calcolo Con 80 Diciamo Ristoranti Con una media Almeno di 10 presenze Al ristorante Incominciamo a essere Insomma E poi le loro famiglie Incominciamo a essere tanti Il primo incontro Con un tavolo economico Che ha visto la presenza Di tutte le associazioni Si è tenuto Giovedì 5 marzo Dove sono stati raccolti Dei documenti Presentati Dalle varie associazioni Con richieste di aiuti Per i vari settori Nel contempo Venerdì 6 Il presidente della provincia Paolini Ha convocato un incontro provinciale Con tutti i sindaci Dove si è costituito Un tavolo di lavoro Per la redazione Di un documento Unanime Da portare poi al governo Ci eravamo già mossi Abbiamo già istituito Un tavolo economico Che elaborerà Insieme anche con altri colleghi Con tutto il territorio provinciale Delle proposte Da sottopore al governo Che rientrino Nel decreto economico Ma da subito Ci siamo mossi Io stesso Mi sono messo al telefono Con i nostri rappresentanti Al governo E mi hanno garantito Che anche la ristorazione Sarà inclusa Nel pacchetto Economico Siamo in work in progress Le cose le seguiamo Giorno dopo giorno In costante rapporto E abbiamo Costituito anche una task force Dove c'è La rappresentanza istituzionale Ma anche la rappresentanza Delle varie categorie Perché o si lavora insieme All'unisono O altrimenti Ci facciamo solo del male E aggraviamo soltanto La situazione Stessa cosa Più o meno anche a Pesaro In Piazza del Popolo Dove oggi Pomeriggio C'è stato un incontro All'aperto Con il responsabile Della Confcommercio Locale Vediamo Noi abbiamo avuto Un incontro adesso Informale In Piazza del Popolo Con tutti gli operatori Commerciali di Pesaro Perché Gli stessi operatori Ci hanno chiesto Di chiudere Il problema coronavirus Abbiamo avuto Nella riunione Il sindaco Ricci L'assessore Franco e Lucci L'assessore competente Al commercio E abbiamo parlato Di quel che dovrebbe Succedere domani Per quanto riguarda Il nuovo decreto legge Che il presidente Dei ministri Conte Dovrebbe promulgare E ci darebbero L'opportunità Di capire A livello finanziario Ed economico Come il governo Possa venire incontro Alle esigenze Dei commercianti I commercianti Hanno deciso Di chiudere Almeno per 14 giorni Se non proprio Prino al 3 di aprile Come l'ultimo decreto Legislativo Del cosiddetto DPCM Di Conte E in base a quello Siamo in grado Di capire Di venire incontro Praticamente Praticamente Che dovrebbe Dare delle linee guida Su cui noi agiremo Tra cui Ci dovrebbe essere Si spera La cassa integrazione Inderoga Tenendo in considerazione Che il settore Del terziario Non ha mai attivato Ammortizzatori sociali Speriamo Speriamo che all'interno Del decreto Ci sia anche qualcosa Che sia legato I mutui Quindi al rapporto bancario Alle riba Per riuscire Di procrastinare Il massimo possibile O annullare Determinate cose Anche perché Sono costi In questo momento Non gestibili Per le nostre attività Perché Le nostre attività In questo momento Non guadagnano E noi sappiamo Che quando non si guadagna Si licenziano le persone Se si licenzia le persone Si crea povertà Ed è il cane Che si morde la coda In questo momento Non siamo in grado Di sopportarlo Tenendo in considerazione Che al primo posto Comunque c'è la salute pubblica La salute Degli stessi Comercianti La salute Degli stessi Dipendenti E quindi Praticamente In questo momento Loro stessi Ci hanno chiesto Di poter chiudere La banca De credito cooperativo Di Fano Continuerà ad assicurare I propri servizi Si legge in una nota A soci e clienti Confermando l'apertura Al pubblico Delle sue filiali Con un adeguamento Di orari e servizi L'operatività di Sportello Verrà erogata Dalle 8.30 alle 13 Al fine di alleviare Invece Eventuali difficoltà Economiche Collegate alla sospensione O alla riduzione Delle attività lavorative Dovute al diffondersi Del contagio La BCC di Fano Metterà in campo Delle specifiche Iniziative A favore di soci e clienti Che andranno A integrare Quanto messo in atto Dal governo italiano Attraverso ordinanze E decreti Tra cui appunto Quello a cui si faceva Riferimento poco fa Nella dichiarazione Della Confcommercio Il decreto che Tutti quanti aspettiamo E che arriverà Domani Sul web Intanto si stanno Susseguendo messaggi Di personaggi Dello spettacolo Che invitano Al rispetto Delle regole Anche Nel piccolo I consiglieri comunali Locali Under 35 Che hanno meno Di 35 anni Rivolgono Appunto Un appello Chiaro A tutti quei ragazzi A quei giovani Che in questo momento Particolare Escono Nonostante gli inviti Dalle proprie abitazioni E fanno vita Quasi come Se nulla fosse Oggi Abbiamo voluto Fare questo appello Ai giovani Da giovani Under 35 Che sediamo In consiglio comunale Tutte le parti politiche Io rappresento La Lega Poi abbiamo Tommaso Mazzanti Che fa parte Del gruppo 5 Stelle Giovanni Clini E Francesca Ricci Del PD E Edoardo Carboni Di noi giovani Siamo tutti uniti Per dire ai giovani Restate a casa Ne va Della salute Nostra Ma anche di tutti Coloro Che ci stanno vicini Da partire Dalla nostra famiglia Ai nostri amici E questo è il momento Della responsabilità Quindi sappiamo benissimo Sappiamo benissimo Che per noi È difficile Rimanere in casa Perché i giovani Di per sé Piace uscire Stare insieme Abbracciarci Ecco Queste pratiche Le dobbiamo Sospendere Perché è bene Stare a casa Con La nostra famiglia E approfondire Magari qualche tematica A noi cara Per poi Quando sarà passata Questo periodo Tornare a fare Quello che facevamo Prima Però oggi È il momento Della responsabilità Quindi L'appello che facciamo A tutti i nostri ragazzi Che purtroppo Ancora vediamo In giro Per la nostra città Soprattutto la sera È quello Di rimanere a casa E superare Questo momento Insieme Perché siamo sicuri Che quando finirà Speriamo molto presto Torneremo A fare Quello che facciamo Prima Con ancora più Convinzione Quindi Stiamo a casa E tuteliamo La nostra salute Anche il circuito ciclistico Marconi di Fano In zona trave Chiude gli ingressi Fino al prossimo 3 aprile I trasgressori Che entreranno All'interno Dell'impianto sportivo Comunale Saranno passibili Di violazione Di accesso E passibili Di multa Da parte Delle forze Dell'ordine L'amministrazione Comunale Invece Di Colli Al Metauro Ha deciso Di posticipare Alla data Del 30 Di giugno 2020 20 pagamenti Di prossima scadenza In particolare Si tratta Del trasporto scolastico La cui scadenza Era prevista Il 16 marzo La COSAP E l'imposta Sulla pubblicità Scadenze previste Il 30 di aprile È tutto Grazie per averci seguito Il telegiornale finisce qui Vi ricordo gli aggiornamenti Sul sito internet Occhiananotizia.it Ci vediamo domani Invece Alle 7 e 30 E non alle 7 Perché domani mattina Fino a sabato Qui c'è un cambio di programma Alle 7 Ci sarà la Santa Messa In diretta Dalla Cappella di Santa Marta Con il Papa Con Papa Francesco Poi la rassegna stampa Dunque alle 7 e 30 E domani sera Un'altra Santa Messa Che è stata aggiunta Dalla Conferenza Episcopale Italiana Alle 18 E che trasmetteremo In diretta Anche noi Da San Giovanni Rotondo Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.